Oggi ho creato questo portale, vi starete chiedendo, funziona? La risposta è... Nooooooo! Ladies and gentlemen, benvenuti nel sedicesimo episodio della serie Vanilla sul secondo canale Grazie veramente di cuore per il vostro supporto, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale Non perdetevi i video, attivate la campanellina e lasciate mi piace per i prossimi video In descrizione trovate l'episodio precedente Eeeh! No! 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 Lo sapevo! Lo sapevo! Maledetto, maledetto, maledetto! Ragazzi siamo a un buonissimo punto per quanto mi riguarda È vero, stiamo temporaneamente ignorando i dettagli, ma i dettagli arriveranno, arriveranno col tempo Morto nel nether e costruzione delle mura, ho deciso come strutturare la mia base In questo episodio faremo dei progressi Creeremo una porta automatica 3x3 Oddio non so come faremo, ma ci proveremo Non ho idea! Sistemeremo il bottone, nuovi ascensori, un sacco di cose fighe, diamanti, encendebris Iscrivetevi al canale ragazzi, ve l'ho già detto? Non l'avete ancora fatto? Malissimo! Non vi ruvo altro tempo, io vi auguro una buona visione e un buon weekend Io nel dubbio stavo provando a comprare The Forest, il 2 Sono The Forest, ma come vedete il negozio ci saluta Il gioco è uscito, 6.000 persone dentro Oh! 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 Eh, col cavolo, col cavolo, madnaggia, pure l'illusione Pure l'illusione! Ma non importa perché la vanilla di quest'oggi sarà bellissima, molto più delle altre probabilmente Perché ogni episodio sarà curato minimamente al dettaglio Sono accadute tantissime cose nel mento, mi sono leggermente portato avanti Ho fatto del progresso, il progresso è estremamente figo Scavando all'interno delle grotte Ho trovato cose, diciamo così E l'ingresso della nostra miniera di diamanti Non ci crederete mai Ma è un diamante? Sì, l'ho ricoperto completamente No, completamente non è vero Perché mancano dei blocchettini qua Diamante bellissimo che non ho posizionato io con Silk Touch Forse non avete capito, il diamante era qua Ora capisco che sia prezioso, che tu lo voglia Ma non mi sembra il caso Cioè, che cavolo Il diamante è preziosissimo Ora, questo qua potrebbe essere il diamante d'emergenza finale Tipo in chiusura di tutto Vabbè, magari poi ne riparliamo in futuro Però è figo, è figo che c'è da tanti collegamenti Guardate, ho usato questo piccone con efficienza 4 L'ho tramortito fino a 170 di durability Metal Detector invece se la cava ancora da Dio Se non mi ricordo male Scendendo di qua Era di qua Oh mio Dio Ma no, era a sinistra Perché ho girato a destra? Ragazzi, fidatevi che da quest'altra parte Perché avevo trovato altri diamanti nei miei tunnel Dove avevo trovato i diamanti Se non erro Sono abbastanza certo di questo Questo è il tunnel Eccoli qua Non sapevo che mi stavano aspettando Sono mica pochi, raga Cioè, questo è un blocco 2x2 Cioè, sono tanti Direi di procedere quindi allo scavo Ne abbiamo sempre uno Che in questo caso è l'UCI 1.9 Stiamo usando necessariamente quello con fortuna E la madonna What? 22? Sono tanti Considerate che questa è solamente una parte dei diamanti Mi sa che ogni episodio vi mostrerò tutto il progresso degli scavi Quando un giorno avrete il seed Poi vedrete che Tutto reale Tutto reale Incredibile 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 Ho trovato una grotta clamorosa Ma cosa ve lo dico a fare? È clamorosa Guardate qua Altri diamanti Perché se mi giro a sinistra Altri diamanti È clamorosa Ve l'ho detto Se non l'avete ancora lasciato mi piace Siete dei folli Di folli Cioè, capito? Siamo appena scesi giù in miniera Così Inizio dell'episodio 44 diamanti Fila per 6 Con il resto di 2 Cioè, questo sono davvero tentato Di lasciarlo così Perché è bellissimo Cioè, un giacimento così di diamante Non l'avevo mai visto Fate quello che volete Forse non l'avete mai visto manco voi Seriamente 44 diamanti Diciamo che sono più che sufficienti Fatemi sapere nei commenti Che cosa dobbiamo fare Con questi diamanti qua Perché ovviamente Con Silk Touch Potremmo anche rimetterceli Poi in futuro Però Ne ho davvero tanti adesso Di diamanti Quindi non sembrerebbero Essere un problema Adesso prima di perderci Ritorniamo indietro Qui dobbiamo girare a sinistra E voi direte Ma perché ha girato a destra? È perché Per colpa della mia ragazza Mi confondo anche io adesso A volte A volte Ma è colpa sua Ad ogni modo Qua sopra ci sono gli slime E noi dobbiamo trovarli Perché nei commenti Ho letto che volete Che io faccia il portone 3x3 automatico E la risposta è Che lo facciamo Lo facciamo oggi Eh già È nella to-do list Come? Non l'avevate visto Nella to-do list Mannaggia Mannaggia Qua Gli occhiali servirebbero Eh probabilmente Teoricamente Con non troppi Sticky piston 11 Dovremmo riuscire a fare Quello che ci serve Il problema È che Proveremmo non averne 11 Comunque ho riparato Anche il metal detector E ho fatto un'altra cosa Estremamente figa Ragazzi Che non vi aspetterete mai Adesso Cioè Io come al solito Dopo aver trovato i diamanti Dovei prendere E risalire Quassù Ma vediamo se qualcuno Si è accorto in tempo Non lo so Non lo so Non lo so Una cosa è certa Una cosa è certa Che col cavolo Che andiamo di qua Raga No non passiamo di qua Non passiamo di qua No 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 Non passiamo di qua Scomodissimo Scomodissimo Adesso ci lanciamo Ci lanciamo No No Mannaggia Se ci fosse Una risalita rapida Porca miseria Se ci fosse Una risalita rapida Ragazzi Ma che me Sono inventato Oh no Qua suffochiamo Stai attento Raga è bellissimo Bellissimo Lo adoro già Ci porta praticamente A metà strada Per poi arrivare a casa C'è un collegamento bellissimo Che ora è bruttissimo È brutto adesso Ma è temporanea La bruttezza Adesso Qua per esempio C'è un'apertura naturale Che io adoro Potrei mettere qua dentro Un sacco di decorazioni E qua ovviamente Si torna Dritto nella nostra base Quindi un accesso Più veloce Al sotterraneo Potremmo averlo Se ci fosse un ponte Unico e dritto E perché lagga tutto Sta esplodendo Il mio computer Quanti blocchi abbiamo Adesso quindi Oh Cinque in più Siamo tornati Sopra i venti Fantastico Fantastico Avendo dato un nome A questo qua Come vedete Non è neanche più Un problema Comunque Sono rinato Un suggerimento Di prendere Il totem Dell'immortalità E come gli altri Youtuber Che fanno in giro Per il mondo Le loro serie Cambiare la skin Del totem Visto che è una cosa Molto figa E noi abbiamo Il diamante Nella serie Potrebbe essere figo Creare una skin Del totem Con il diamante In mano Che è il nostro diamante Dobbiamo sempre avere Il totem Dell'immortalità In mano Fatemi sapere Cosa ne pensate Ovviamente Come avete visto Nell'ultima live E nel resoconto Abbiamo fatto progresso Nella nostra base È una bella muraglia Sembra Oh Se dobbiamo essere sinceri Lo è Attualmente lo è Perché è temporaneo È temporaneo Però Sisteveremo tutto Non mi preoccupate Forse non si può dire Mi dice il mio avvocato Ok Allora Capiamo Poi capiamo come fare Un giro di ricognizione Alle mucche Io direi di farlo Sempre e comunque Ah Tra l'altro Quasi mi dimenticavo Io ho fatto del progresso Al mob spawner Che è sempre più brutto Cioè veramente È sempre più brutto E c'è poco da dire È sempre più brutto È bruttissimo È terribile Ma diventerà un albero Adesso è molto più efficiente Ho fatto due livelli Ho sistemato tutte le slab Addirittura ho piazzato Delle trapdoor Nei punti esatti Al piano di sopra Per evitare lo spawn Dei ragni Che porca miseria Occupano un sacco di spazio E poi non fanno spawnare Le altre creature Quindi io spero che funzioni Adesso andiamo lì Magari vediamo Cinque minuti In overclock In timelapsing Che cosa succede Mentre massacro queste mucche Vi starete chiedendo Che cos'è questo Beh molto facile ragazzi Una zona smaltimento mucche Non è che posso farglielo vedere Cioè nel senso Queste vi rimangono traumatizzate Credo sia più che normale Ad ogni modo Siamo quasi A metà dell'opera Quasi a metà Sì quelle che poi provano ad entrare Le uccido Mi piace tantissimo Come ho designato qua L'entrata Praticamente invisibile Un bot Mi piace troppo Livello 15 Se vi piace Possiamo dedicare Un episodio in futuro Alle case segrete Su minecraft Ovviamente nella vanilla Quindi non cose clamorose Ma cose carine Che si possono fare In realtà potrebbero essere Tutti piccoli passaggi Segreti All'interno Del nostro Podere Della nostra Mega reggia E morite tutti Non rimarremo mai senza pelle Questo credo sia abbastanza chiaro Non rimarremo mai senza mucche E sapete perché Non rimarremo mai senza mucche? Ma è ovvio Perché non rimarremo mai Senza grano Dunque Ho la spanina di legno È fatta apposta Spero che funzioni No Quelle non le avrei voluto Oddio Con i creeper funziona Mi se Due di fila Che è sto lusso? Tre Sì lo so ragazzi Oggi dobbiamo portare a casa Anche sei blocchi Di ancient debris Lo faremo Non vi preoccupate Se questi arrivano È anche meglio Anche meglio Che dici? Io vorrei veramente capire Che cos'è che non funziona Ragazzi Perché non è possibile Cioè o l'altezza Non è giusta Perché c'è qualcosa Che non va Perché ogni tanto Così spawnan creeper Ma quando sono dove? Quando sono qui? Quando sono qui? Prima di fare tutte le modifiche C'era un punto esatto In cui se stavo lì Me ne dava un botto Ve lo giuro Non riesco più a ritrovarlo Oh Se qui è caduto Posso stare qua Vi giuro sarei troppo curioso Di vedere che Caspita Sta succedendo là dentro In questo momento Ora sento cadere i creeper Ma perché nascono solo creeper? E gli scheletri? Dovrebbe esserci Tipo già 4 3 Non dovrebbero potermi vedere In teoria così eh Il mio obiettivo era Accumulare più gunpowder possibile Ovviamente Sembrerebbe star funzionando Niente Finito il flusso dei creeper Devo andare su a vedere Io ho un'ipotesi Poi dovete dirmi voi Che cosa ne pensate E vabbè Oltre al fatto che io sia un pirla Io l'altra volta Comunque ho rubato le lanterne Ma per quale motivo Non le sto utilizzando? Ma io sta roba Non la capisco proprio Se sto qua sotto Comunque un po' cadono Come sentite eh Non è male Se in realtà adesso Sto proprio facendo una cosa così Per rompere le scatole A me stesso eh Più carino no? Sì lo so che dentro è brutto Ma vi ricordo che dovrebbe essere un albero E lo diventerà Col tempo Sempre più vicini Si può sicuramente dire Che funziona Magari non funziona Alla perfezione Ma Nel senso Non sprofondano Non sprofondano le cose Ho visto Ho notato Come la risolviamo questa? Perché quello è morto? Non capisco comunque Ah così li posso anche tenere in vita Se voglio collezionarli Non credo Non capisco se di notte Ne sponano di più o no Ora lo proviamo subito Vediamo ragazzi Vediamo di giorno Come va Intanto iniziere a simulare La gunpowder Che comunque mi sembra Un bel bottino eh Dovremmo fare un piccolo pit stop Sicuramente Alla ricerca della sabbia Che adesso non ne abbiamo Ho fatto anche la seconda lanterna Così siamo brutti Ma simmetrici Eh Tata Brutti ma simmetrici No qua Asimmetrico Aaaaa Quelli vestiti però si salvano tutti Che non è male Non è male Al punto di riuscire a colpirmi Però Mi porta a livello 20 Ecco Succoso Succoso È un piacere Fare affari con voi Signori Lui è caduto sull'acqua eh Questa è la spiegazione plausibile La sua immortalità Temporanea Temporanea Risolveremo tutto Signori Non vi preoccupate Basterà alzarlo ancora di uno Tutto quanto Con gli hopper alzati ancora di uno Il mio unico problema È andare in giro Con materiali brutti Nell'inventario Quindi quando costruisco Che sono ispirato Cioè materiali brutti E quindi sembra brutto Di conseguenza Comunque Quando non ci siamo Io direi che possiamo Anche togliere questo Così Si schiantano bene bene Lassopra E muoiono Siete d'accordo La palla Per raccogliere Un quintale Di sabbia Ce l'abbiamo Leverei questo Purtroppo adesso Questa chest È veramente brutta Lo so Non odiatemi Oh shit We go again Non ci posso credere Ho bisogno di una barca Mi sembra di essere Tornato al terzo episodio Oh shit Sono recidivo Eh sono recidivo Voglio vedere quante volte Capita questa cosa Clamoroso Soprattutto se una barca La istazionata Vabbè Una è per andare Una è per tornare È vero È vero È vero Dunque Perché voglio allontanarmi Perché non ho intenzione Di recuperare la sabbia Dalla mia oasi Del piacere Del benessere In futuro Prevedendo i 140 episodi Tanto millantati Spero Suppongo Di espandermi Per tutta quanta l'isola Di creare un galeone Devastante Che sia intero O distrutto Questo non lo sappiamo Ancora ma lo scopriremo Scoprirà lo step Nel futuro Lo deciderà Più che altro lui Ho fatto una bella Scorpacciata di legna Entrava off camera Ho tirato giù Tutta quella che c'era Davanti alla porta Quindi sicuramente Avremo modo Di costruire le passerelle Intorno alla fortezza Come vi dicevo Non so quando lo faremo La to do list E' sempre mistica E' sempre mistica Che cos'è quella cosa Laggiù in fondo arancione Una volpe No non ci interessa Sincero Ma vi dirò Qua un po' di sabbietta c'è Non mi allontanerei troppo Volete vedere Quanto veloce va questa pala Ok Diciamo che Proverò a togliere Tutto quello che c'è Al di sopra Di questo blocco qua Quindi da qui in poi Tutto Tutto quanto E ci vorrà un bel po' Credo Bel lavoro comunque Guarda caso Avevamo bisogno di coal Follow the flusso Sempre valido Ragazzi faccio una scommessa Con voi Adesso Io scavo a livello Meno 51 Qua E trovo un diamante Scommetto quello che volete Adesso Mi piace Scommetto mi piace al video E caspita se lo trovo Come dite non posso scalare così Perché non sono coraggioso Ok Va bene Molta paura Oh mio dio Se becco il vuoto Siamo morti Tutto quello che non si dovrebbe fare In questo gioco Sono completamente matto Altri 30 blocchi così Potrei sprofondare Un momento all'altro Io ho molta paura Ovviamente Devo ancora scavare 15 14 13 12 11 9 8 7 6 Va bene Dovremmo esserci arrivati Sicuramente senza ammazzarci Ne mancano 5 Sotto 3 2 1 Oh mio dio Se c'è clamoroso Se non c'è Avete vinto voi E se non volete lasciare Mi piace al video Capisco Eh non c'è ragazzi Meno 51 Proviamo a vedere Quanto riesco a scavare Stando immobile In questo blocco E se riesco a trovare Il diamante Sì lo so avete già vinto Questa è una sfida Aggiuntiva Una side quest È incredibile Che Metal Detector Abbia fallito Sembra assurdo Anche a me Devo essere sincero Ho ancora tanti blocchi Da spaccare Eh può non sembrare Ma sto ricoprendo Un'area Decisamente ampia 10 minutes later E va bene Forse avete vinto voi Non c'è Non c'è Non c'è nessun diamante Mannaggia la miseria Non l'ho trovato Non l'ho trovato Però è un sacco di Cobbled Deep Slate Che farà comodo Fidatevi Ed è questo il motivo Per cui Voglio fare velocemente La TNT Quante ne possiamo fare 30 Molto bene 30 TNT Ragazzi Oh mio dio Nel mentre E ovviamente è diventata notte Tu sarai Non sarebbe il niente Vediamo se riesco ancora A fare il trick Dell'acqua Per salire Una volta lo sapevo fare Sembra di averlo dimenticato A quanto pare Molto bene Ha funzionato C'è da dire Che questa palla Raga è incredibile In modo egregio Abbiamo ripulito tutto quanto Là sta arrivando una squadra Mannaggia Ma dobbiamo davvero rifare Un altro crafting table Adesso Perché non vorrei perdere La sabbia Che ho già scavato Considerando Che non ho spazio Cosa fai Raga ho fatto dei combattimenti In questi giorni Sotto casa Che non avete un'idea Cioè Hulligan spostati Comunque il portabile Lo porterei Ovviamente Tutta la sabbia Preferirei non perderla Per ovvi motivi Visto che ci serve Anche per il tetto Della zona villager Ce ne torniamo a casa Con 11 stack di sabbia Non male E non dimentichiamoci 30 TNT Ovviamente Prossimo episodio Mi sa che andiamo a prendere Davvero il totem Dell'immortalità Ragazzi Che ne dite Può essere una buona idea E ci faccio ancora Quaggiù Ovviamente Me lo stavo chiedendo Anch'io Là abbiamo abbandonato Una barca Bene Là sotto c'è una grotta Io voglio capire una roba Ma serve il silk touch Per prendere le api Paura di sì Oh cavolo Ma mi dispiace Ma io volevo prendere Solamente il nido Come faccio a farti tranquilli Aia Aia È morta No Questa è un'altra Come faccio a prendere Ma mi sta uccidendo Ma quanto Wow Ma quanto toglie Incredibile Devastanti Che ci fa una pecora marrone qua What No questo sta uccidendo le pecore Pezzo di schifo La pecora La grigia Rarissima Mio dio Ma quindi se la colpisco Si triggera Ok Ti voglio portare a casa Non pungermi Non pungermi Vieni Oh no Sono in due Incazzate nere Calme Calme Poi prenderò anche un nido Con silk touch Ok Dovete seguirmi adesso Temporaneamente Temporaneamente Venite Venite così Ehi Come ti sei calmata Ma in che senso Vabbè Vieni tu Tu puoi essere ancora incazzata Se vuoi Seguimi Ma sei disarrabbiata Oh Vamos Se con questo trucchetto Riesco a portarla Ma è inciampata Ragazzi No Mi ha fregato Ha fatto finta Di inciampare Per avvelenarmi Però questa non muore Ah Ma che sta Che sta succedendo Ma a fine che ci crepo Davvero ragazzi Siamo al 66% Dell'obiettivo Comunque Il livello 30 Sta arrivando Guardate che belli Questi ferellini Stanno molto meglio Nelle mie chest Ehi Ancora E che c'ho Il bad omen Delle api Adesso Ottimo Questo ricordiamocelo Che vengo a prenderlo Ma serve il silk touch Che adesso non abbiamo Lo abbiamo rifiutato È vero L'abbiamo un po' sdegnato Abbiamo detto Ma che ce ne frega il silk touch Poi ho pensato Ma se posso fare veramente La farm di pesca Nuovamente È fantastico Non si può fare Ma l'avete già visto Ovviamente Se siete a questo episodio Se non siete a questo episodio Perché l'avete già visto Degli altri episodi È un problema Cioè Cosa Cosa ho detto Ah che bello il mio Non castello Le mura Un po' di tempo fa Non potevamo dirlo Che c'erano le mura del castello Adesso lo posso dire Fatemelo dire Teoricamente Oltre a gunpowder Ovviamente Voglio detonare Per bene Il ned Eh ma è poca È pochissima Dai spero che cada qualcuno E spero che cadano creeper Quante ne possiamo fare con sedici Ne possiamo fare tre Ok Oddio è caduto uno scheletro Quindi funzionare funziona Perdiamo l'exp Non mi va di perdere l'exp Piuttosto perdo gli oggetti Dai forza Ho fame Vado a prendere qualcosa da mangiare Ten minutes later Ah bene Bene Mi sembra funzionare Fantastico Direi di recuperare comunque l'altra spada Se funziona così è meraviglioso Sono stato via comunque relativamente poco Mi hanno farmato quattro scheletroni E un fottutissimo creeper E muori Si è rotta la spada Ma in che senso Ma certo che hai tanta vita comunque Per essere caduto da così tanto in alto C'è il problema che alcuni vabbè non muoiono Perché cadono con le armature Quindi sono protetti Così muoiono sicuro Protection 3 Unbreaking 3 Davvero se potessimo salvare sta roba Sarebbe bellissimo Ma non si può Procederei comunque col metodo slab Quindi al massimo li accumuliamo con le slab E poi li uccidiamo Ma prima Dobbiamo andare a prendere L'hunch and debris Il bello di avere una to do list È che non ti importa in che ordine completi gli obiettivi L'importante è completarli tutti quanti Per esempio qua che adesso vi voglio vedere un attimo se c'è qualcosa Noto che non c'è niente Però mi sono creato spazio Meno claustrofobia E anche ne dite Poi in questo corridoio quando avremo il silk touch Ci sarà ovviamente anche del ghiaccio Tutti questi piccoli lavori di manutenzione Fatti un po' per volta Non sono pesanti Sono pesanti quando li fai tutti insieme Ora Io sto perdendo questa cobblestone È vero Sarebbe stato vergognoso fare un'altra cassa eh So proud Of my ascensori Let's go Qui dovrei avere il dragon powder Esatto Così ne possiamo fare esattamente 34 Non fa una piega Farà però una bella esplosione Perché queste qua le faremo esplodere 20 A catena Vediamo di curare leggermente il piccone Che ha preso una bella briscola Se siete d'accordo smettiamo di cucinare le patate Che mi sembra diventato estremamente inutile Un po' di materiali per ampliare il castello Con lo scherzetto di prendere i diamanti Li abbiamo trovati Questo qui è l'altro piccone eh Non vi preoccupate Lui sia sempre con noi Sta diventando notte Visto che non l'abbiamo ancora fatto Direi di riposarci temporaneamente Manca pochissimo Dai fammi dormire Ok grazie Io volevo prendere l'ape comunque con la lead Nel caso in cui non si fosse capito Avrei dovuto prenderla prima probabilmente Chissasse 34 blocchi di TNT Bastano per trovare 6 blocchi di Ancient Debris Credo che lo scopriremo insieme Tipo tra 2 secondi probabilmente Mi prendo la TNT Mi prendo più di un bottone Perché probabilmente ne avremo bisogno Andiamo Comunque non so per quale motivo Io non vi abbia mai fatto vedere la clip Ma aggiungendo il letto E dando uno stack intero di pane È successo Oddio Raga io ho sentito una buona cosa Fermi tutti Fermi tutti Clamoroso La svolta La svolta La svolta La svolta La svolta Se questa non si verita o mi piace Non so cosa posso veritarselo Permesso ragazzi Sì lo so che ho leso gravemente la vostra incolumità Non era mia intenzione Ho sentito un rumore E ho pensato di poter sfruttare la situazione A nostro vantaggio Stavo per rompere il piccone con efficienza 4 tra l'altro È gravissimo C'è uno zombie nei paraggi lo sentite lo sentiamo tutti Era sopra Mi è caduto un creeper in testa Potrebbe essere questo il titolo ma non lo sarà Eccolo lì Raga questa è la nostra chiave per il successo Che ci crediate o meno Se passa no Se passa siamo morti Ok Ok La chiave per il successo si è presa 3 quarti del nostro bilocale No 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 Per l'amor del cielo Ok sei 3 quarti Prima erano 3 quarti Mo so 4 quinti Quello zombie è molto buono Ok Scusate le urla mi dispiace ragazzi Ho panicato Perché potrebbero morirci E non voglio Però Però Calmo Tu sei il pres È prescelto È prescelto È prescelto Ragazzi è prescelto Ha scelto di esserlo Nel senso non l'ho fatto apposta Non voglio vedere Non voglio vedere E vai Ma vai dall'altro Non ha già tua sorella Dai affronta il tuo destino Che cavolo Aia Io intanto gli sto limitando lo spazio vitale Ad un blocco sempre più piccolo Adesso ha un blocco in mano Non può neanche più desponare Ragazzi abbiamo la farm di villageri modificati Oh mio dio Eh questa è da sistemare adesso Abbiamo la farm di villageri modificati È un parolone Me ne rendo conto State calmi Ok Io non lo so se funzionerà Ma fidatevi che ne varrà la pena Non era nella to do list Mamma mia Se è clamoroso È clamoroso ovviamente Teoricamente dovrebbe essere attratto dalla barca Quindi spero che voglia entrarci il prima possibile E che non sponi altro Ottimo Ok Adesso vi faccio vedere la cosa bella E la cosa brutta Perché La cosa bella è che possiamo fare del progresso La cosa brutta è che non è il progresso Che vorrei fare totale Ora capirete Capirete Non vi preoccupate Sto cercando di fixare qua una zona temporanea Per loro Come potete vedere Non è neanche facile Questa porta vuole stare qui Se la metto così Andrà dritta Esatto Perfetto Meglio di nulla Un calcio in culo Com'è che si dice Dai che piano piano prende forma L'ingresso dei villageri Dai 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 ragazzi Dai I can see the progress Right here right now Dunque lui è qua Sempre lì sotto Certo Chi l'ha spostato Nessuno Possiamo rifixare Temporaneamente questa zona Quindi ci sono pochi blocchi Che non posso togliere Ma quei pochi Lasciamoli dove sono Molto bene Possiamo riaprire tutto qua Fare disastri senza fixarli Non è accettato Ovviamente Poi se volete il parquet Io ve lo faccio E non è un problema eh Grazie al cielo Che c'era questa insenatura Che ha permesso allo zombie Di nascere Perché adesso Noi gioveremo tantissimo Da tutto ciò Loro sono murati dentro Quindi non c'è rischio Mi serve un libro E facciamo il miracolo Forse Solo all'88% Perché come vi dicevo La finiremo in un prossimo episodio Non potrò Ritrasformarlo Per adesso metto da parte Un po' di sabbia Che come vedete Siamo riusciti a raccoglierla Dovevo farlo già da prima Ma poi Ci siamo incantati Qui dal niente Ci sono tre pecore Una mucca La mucca me l'aspettavo Le pecore un pochino meno Teoricamente Grazie del libro Noi adesso possiamo crearci Lectern Non è un libro che mi serve Ovviamente Ho sempre le indicazioni sbagliate Dobbiamo fare una libreria Che andrà al centro Del nostro leggio Così Perfetto Qui abbiamo messo in live Le zucche In questo modo Ci sponano un pochini Di golem Poi uno è già buttato di sotto Mannaggia la miseria Non gli abbiamo dato Manco una name tag Ingresso villager Ingresso villager No qua ci sono degli scavi In corso Lasciate perdere Ah Guarda l'ingresso villager Che carino Adesso è brutto È brutto È brutto Sarà molto più bello Dunque questo signorino Noi ci serve Piano di sotto Eh lo so Adesso lo prendiamo Dunque stoccaggio villager Il breve termine ovviamente Cerchiamo di curarlo Il più possibile Lei mi deve per cortesia Scendere un pochino Sì mi deve scendere Mi deve scendere Non so come dirglielo Ma deve arrivare qua sotto Sì Probabilmente questo blocco Impedisce la discesa Ma ci penso io Adesso Teoricamente Come lo porto lui giù Porto sullo zombie Non porto giù lui Giusto Porto sullo zombie Che adesso vorrà il villagero Noi gli facciamo il percorso E perché vuoi me Not stonks al 100% Ma sembrerebbe funzionare A breve Perché me sì Lui no Ok Vai dal villager Vai dal villager Caga sotto Che non sei altro Affronta i tuoi problemi Ah già Il leggio Il leggio Vai dall'altro Oddio aspetta Magari è già mending Non vogliamo ucciderlo Aspetta lì eh Senti Allora Dobbiamo parlarci di cose Allora 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 Io e te potremmo essere amici Mi è piaciuta la tua mossa Non so come hai fatto A convincere lo zombie A non ucciderti Ma aspettami lì Perché io e te Potremmo essere amici Madonna Se possiamo essere amici E lui Porca miseria Ragazzi Ci serve Ora Ora Lo faccio adesso Ve lo giuro No cavolo È livello 30 Poi come faccio Facciamo nel prossimo episodio Se no rovino tutti i piani Ma ci dobbiamo prendere qualcosa Sì 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 Come No 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 Eh sì 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 È arrivato il momento So che ne abbiamo già un po' là Ma devo anche arrivare a livello 30 Quindi Signorine La guerra è ricominciata Sono Mr. Nimbus Molto bello Che dovevamo andare nel nether Per farvi vedere i villaggeri È successo tutto questo Un giorno muore No lui un giorno muore garantito Me ne vado 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 Ho preso abbastanza Ve lo garantisco Comunque cosa sto facendo qua E Adesso non riesco a spiegarvelo Perché l'idea non è ancora chiara Neanche per me Della realizzazione Ma Ragazzi È temporaneo Sistemiamo tutto Ok Abbiamo una marea di canne da zucchero Adesso non ne abbiamo più Devo ripiantarle Stiamo scherzando Vabbè Non mi preoccupate Che tanto Ci servono solamente 32 libri 15 ce li abbiamo già Ne servono 17 Io lo so ragazzi Che adesso non è lo scambio Più conveniente possibile Ma vi garantisco Che col Feather Falling 3 Che abbiamo da parte Ci recuperiamo il Feather Falling Che abbiamo perso L'altra volta No Non era qua Ma ben sicuro Come Mi ha fatto a risalire raga Tu sei un mostro Ma nel senso buono Dunque Gennarino Tornando a noi Mi piace molto sapere Che lei scam Non ti devi muovere Non ti devi muovere No Cioè non so come dirtelo Non so come dirtelo Non ti devi muovere di così Non ti devi muovere Che immobile 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 Non devi muovere un muscolo Non devi muovere un muscolo Chiaro? Non so se tu hai capito La mia lingua Non devi muovere un muscolo Non devi muovere un muscolo Torno subito 11 smeraldi Dove diavolo li trovo? Mio dio Non so se ne abbiamo già trovati Non so se ne abbiamo sopra Pertanto Neanche Uno Ma che livello strano gli smeraldi? Dove il livello della Y È 256 Ma in che senso? 256 alle stelle Vi dico la verità Abbiamo già cambiato così tante volte I programmi E i piani adesso Che sono leggermente confuso Così confuso probabilmente da colpirmi da solo Basta Adesso si vola dritti nel nether Non me ne frega più niente Andiamo a sfogare la nostra rabbia Con le TNT Lui non si sa come è tornato su Quell'altro ha imparato il mending Io non ci sto capendo più niente È tutto molto bello Tutto molto figo Sì Ma sono molto confuso Concedetemelo Concedetemi di essere conf... Tanto questo viene con noi Ovviamente Pezzettino di schifo Che non sei altro maledetto Non ho niente d'oro Ma sono impazzito Ci sarà anche un limite Alle cose che vanno storte Però eh Mi ho anche aperto la cesta E questa è la cosa divertente Comunque non abbiamo più protection 4 Da questo momento in poi Bene Mi ero leggermente stufato Eh sì Molto meglio Livello 15 Ci siamo Siamo nel nether Nel nostro classico Tunnel di scavi Secondo me Dove troviamo questa roba qua Dovremmo cercare di allontanarci un pochino Perché non ci troviamo più nient'altro Qui direi di tenere a portata di mano Il piccone Quello Che anche Oh mio dio Si sta per rompere pure questo Ok dobbiamo stare attenti Inizierei a fare sto tunnel E mo capite anche perché Qua spacchiamo sempre la gravel Perché ci potrebbe essere Dietro l'angolo L'Hanchen Debris Vi ricordo che dobbiamo trovarne 6 Anche se l'episodio Non aveva raggiunto I like richiesti Ogni episodio Dobbiamo trovarne uno in più Let's go Via Non so quanto spacchi Staggeggio Eh Dove essere sincero ma Lo scopriremo insieme Che cos'è andato storto? Io devo stare attento a spaccare Perché mi si rompe il piccone Ma cos'è andato storto raga? Forse la lava come l'acqua Non fa esplodere la TNT Bene ma non benissimo Mi sembra Oh quello però Aiaiaiaiaia Ok Questa è una bella botta Ne piazziamo un altro Ho ripreso anche il bottone raga Sono pazzo Pezzettino per volta Non c'è fretta come vedete Un po' per volta noi procediamo Quando troviamo il quarzo lo spacchiamo sempre Perché dobbiamo recuperare l'esperienza E la vita al piccone Molto bene molto molto bene Siamo già pieni ma come è possibile Direi di scavare qui Let's go Visto che tanto poi torniamo indietro potrei fare anche delle casse Per salvare la nether Perché va sempre a finire che facciamo Un crafting table e successivamente Ci facciamo delle casse sempre Ho paura di dimenticare le cose in giro Però effettivamente già che li abbiamo scavati Che ne dite ragazzi metterli da parte È una buona idea Diciamo che stiamo utilizzando il cervello Al massimo delle sue capacità Probabilmente molto bene Tutti questi orb di esperienza Metal detector che torna in vita piano piano Vila Mai scavarsi sopra nel nether sapete anche il motivo Immagino dunque Niente è anche qua Ma c'è del quarzo Quindi meglio di niente Piccone torna in vita Noi siamo contenti Livello 15 Risaliamoci Eccolo qua Questo è livello 15 Direi di fare un piccolo tunnel Uh Secondo me qua nel mezzo C'è qualcosa per noi raga Me lo sento proprio Non so perché Bottone lo recuperiamo Non c'è niente Oggi male male ragazzi eh Male male per adesso Come vedete Possiamo sempre poi rimediare Grazie al piccolo Tutte le volte che troviamo Fortunatamente nel quarzo Poi lo ripariamo Comunque se corro così Vi garantisco che vado Particolarmente veloce eh TNT che arriva Cercherei di fermarla Il più possibile Eh va bene Non ci voleva proprio questa Però Mi mangio una carne in carrot E stiamo a crema eh Niente raga Di qua non ci possiamo andare Cioè volevo Ma la lava rompe troppo le scatole Quindi dobbiamo trovare Un'altra alternativa Che per adesso direi Potrebbe essere qui Bottone di recupero Perché non ne ho più Ma che cavolo Ma veramente Non mi droppa più niente Un botto di soddisfazione Per poi Un grande fail Scusate raga ma è necessario Sembra che io stia piangendo Perché in questo momento Non trovo l'ancendebri Se ho detto finché non ne trovo sei Non finisce l'episodio Può sembrare Ma non è così Raga io lo faccio Vi dirò di più Lo faccio E lo faccio folle Ah 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 non l'ha presa questa Ah vabbè Com'è possibile E invece uno c'è Sì Due Due raga Ok Ok ora si ragiona 115 Spacchiamolo con questo Ok Wow Uno E uno Due Molto bene 33% Due picconi entrambi Alla buccia C'è pochi utilizzi Quindi dovrei andare a ripararlo Ma ripararlo vuol dire Perdere i livelli Rallentare il progresso Nella to do list Eh sì raga Una to do list Che purtroppo Ha bisogno Di tanto impegno Tanto impegno Dobbiamo tornare indietro Io raga ve l'ho detto Cento volte Che ci sono più stepni Vedete Questo ha lavorato Prima di me Adesso è il mio turno Ah sì che ci divertiamo È passato del tempo Sono accadute cose Sono stato al mob spawner Ho pescato Ho fatto anche degli achievement Massacrato mucche Come al solito Massacrato mob Ovviamente Quello non manca mai Abbiamo finalmente risistemato Il nostro piccone Possiamo tornare nel nether A completare la missione Delle tnt Anche perché ragazzi In stand by Dobbiamo fare la porta In 3x3 Mamma mia Automatica Mai fatto niente del genere Iniziamo da queste cose complicate Mi sembra sensato Qui ultimamente C'era stato un piccolo sterminio Ma E rimediamo subito Rimediamo adesso Ragazzi tranquilli Ora che non ho più il piccone in mano Finalmente genereremo Dei livelli Ops Anche a me che fra gli obiettivi C'è quello di arrivare al 30 Dai Porca miseria Se non vi sbrigate Non lo posso completare Devo mettere il lure Sulla canna da pesca Ogni orb È importantissimo Io adesso per voi Ho una buona E una cattiva notizia Non so quale volete prima Ma ve le dirò entrambe La buona notizia È che probabilmente Possiamo fare gli scambi Con il villaggero La cattiva notizia È che il villaggero Se ho capito bene Cambia continuamente Lo scambio Che ha a disposizione Quindi È molto probabile Che non abbia più Il mending E ve lo dico proprio A malincuore Ma knockback 2 Fa veramente schifo Però aspetta Perché c'ha gli smeraldi Possiamo provare A recuperarli Grazie ai fogli Meglio di niente Non sono molte Ma posso farci qualcosa Sicuramente Tra dare Dopo averlo fatto curare È un paio di maniche Così Un altro discorso Ma recuperare 4 smeraldi Con questo scambio Considerando che poi Avrà un altro scambio Ci sto Dove vai No 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 Dove stai andando Vieni qua Quanti me ne dai Buono What a deal Di nuovo grazie E ancora una volta Per favore E l'ultima per concludere Grazie ancora Un altro scambio Vabbè io ci sto Siamo già a 10 smeraldi Ok Si ragiona Teoricamente Mo se io glielo smonto Attenzione Perché qua la situazione Cambia E anche drasticamente Quindi adesso Lui ha nuovi scambi Ok Ovviamente vogliamo Altri smeraldi Ti do i libri 1 2 3 4 5 6 Si dovrebbe Evolvere Uè 48 diamanti E un libro Tu sei pazzo Per sharpness 4 Io ti diseredo Se sei d'accordo Non Non ditemi che dopo aver fatto Uno scambio Si fissano in eterno Quelli che ha Perché a quel punto Grave Gravissimo Perché lei poteva tenere Il mending E si è tenuto Un knockback No Disgraziato Vieni qua Vieni qua No Forza Vieni qui Che lo zombie Non può uscire Che è notte Forza Torna dentro Dentro è zitto Ok Di là Perché lui ce l'ha con me Oh mio dio Vai dall'altro Vai da lui Qui E qua Non abbia di scampo Non abbia di scampo Ma mollami Ma non mi rompere Va dall'altro Vabbè Non ho parole Comunque Nel dubbio adesso Che lo abbiamo isolato Sicuramente posso Intanto controllare Qua la situazione Ce ne sono ancora due Giustamente Se io tolgo questo E tolgo questo Loro perdono tutto Rimetto questo Rimetto il lectern Lui diventa Ok No Non l'hebrarian Però Cioè l'hebrarian si Ma non con questa roba Che è Ma cos'è sto schifo Oh Oh ma l'altro Ottimo Ottimo Good job Vieni Vieni qua Vieni qua Ottimo Raga Ottimo Top Sì sì Guarda Da dio Da dio Appena avremo un alambicco Potremmo Modificargli il gene In qualche modo Ritornando però Ai miei amici Qua Devo chiudere lo zombie Di no Oh no È passato Aspetta 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 Aia Fa molto male Fa molto male Non ti voglio uccidere Stammi lontano Sono pericolisissimo Allami Secondo me comunque qua C'è una scorciatoia Per arrivare dalle mucche Se no ogni volta Allunghiamo la strada Per niente Perché l'altro collegamento In realtà è fatto per la spiaggia Sento le mucche Sento l'acqua Ah Mamma mia Che precisione è questa In che senso Manco se l'avessi fatto Con le coordinate Non sono qua Con cattive intenzioni Tranquille Ok Quello che volevo io È esattamente questo No No Mi dovete sgalciare Mi dovete sgalciare Teoricamente Uno stack È più che sufficiente Mi avete detto Io ho uno stack Esatto di pane Io leggo sempre I vostri commenti Anche se sono tanti Magari sembra che Finiscano nel dimenticatoio Ad alcuni può capitare Ovviamente Non leggo Tutti e 3000 Se ci sono Ma spesso alcuni commenti Si ripetono Come potete immaginare E quindi L'informazione più importante Era che il villaggero Dovesse avere 64 Pezzettini di pane E tre letti Adesso lo sappiamo Tra l'altro mi piace un botto Che nella cassa dei cibi Abbiamo praticamente Tutti i cibi Del gioco Tra poco Sarebbe bello Metterli in una copia sola Però eh Vedi tutte queste patate Per esempio Non c'entrano niente Non ho calcolato Che potevano sponare Dei mostri Lungo il perimetro Della mia base E che io potessi pure Mancarli Giustamente Probabilmente Devo aggiungere Un pelo di più torce Quindi adesso Dovrebbe funzionare Tutto quanto Giusto? Volete dormire Tutti insieme? Mi sembra un'ottima idea No? Sono mostri vicino Eh vabbè Questi se la romfano Sveglia C'ha ancora protection Io sveglierei Anche lui in realtà Sve Oh Ragazzi sveglia Guardate cosa vi ho portato Oh Ma che fai dormi? C'è il star pane Dai No Ok so che la posizione è quella Ma Dai fammi dormi È terrorizzato Ma che cosa dovrei fare quindi? Non stanno cercando di sabotare La mia missione di oggi No Ma vi pare Neanche un pochino Sono tornato Come state? Cosa Fai Scellerato Dove stai andando? Torna nella tua metà Che di là c'è uno zombie villager Prendete il pane per favore Voglio vedervi fare cose insieme Dai Per favore Ve lo chiedo Oh no no Non vi serve quello Stanno già facendo Sì Me ne vado Me ne vado Me ne vado Vi lascio la vostra privacy Non hai c'è la telecamera di sicurezza Di là Come? No ho detto spero abbiate preso le giuste sicurezze Tutto Tutto Oh No Non è la mia intenzione Stanno ancora discutendo Sì 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 Eccolo Let's go Buono Quindi tu Cora protection C'è ne è proprio focus Bene 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 Vai allora io vado E torno tra un po' E abbiamo allargato E abbiamo allargato Già un buonissimo punto qua Maledetta lava Maledetta te Il problema è che io ora so che se spaccoli La lava esce sicuro C'è garantito Che dite? Si parte? Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Findici Direi sedici Visto che è l'episodio sedici Non so cosa possa succedere raga Non ho manco ripreso il bottone Ok E è successo che non l'abbiamo Oh Non l'abbiamo triggerate tutte ma L'abbiamo trovata raga Come vedete ho gli altri due sempre con me eh Non le ho droppati Potrei controllare perché potrebbero essere anche due Per quanto ne sappiamo Una sicuro Di solito quando se ne trova una È consigliato scavare un pelo sopra Pelo sotto Pelo di là Pelo di di là Un pelo di di su Un pelo di di giù C'era veramente raga La seconda Nascosta qua dietro Si Oh dove vai Siamo a quattro Ne mancano solamente due E raga sono esplose solamente due TNT Cioè è clamoroso Va bene il bottone stavolta cerchiamo di recuperarlo eh A proposito ma l'altra volta io non avevo messo una cassa da qualche parte La cosa buona è che ho un'altra cassa Bene così Sarà stato figo fare una reazione a catena totale Ma a quanto pare non sono capace Proviamo adesso Attiva e poi spacca magari Potrebbe essere più sensata come cosa Grazie Via 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 Ok Ok Già me Eh no Eh no Perché hai 17 bottoni nell'inventario Perché voglio mettere su una pelletteria Mi servono per i giubbotti No non è vero Sto scherzando Voglio farle esplodere tutte una in fila all'altra ovviamente Ora qui ho trovato un'opzione potenzia piccone Cioè che altro di genere era piccone Il piano ovviamente è distribuire un pulsante per ogni TNT in questo momento È un effetto che vedremo in modo un po' differente ma funzionerà E adesso non ho neanche paura di dover raccogliere questi eh Quindi si vola Ne metterei un'altra Anzi me le metterei tutte Oddio secondo me così non serve manco il mio collegamento Madonna raga ci facciamo malissimo 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 Pericolosissimo quello che sto facendo Madness madness più totale Raga io mi sono immolato nella causa eh Immolato proprio in prima persona le ho attivate tutte una ad una Vabbè abbiamo fatto un cratere gigantesco Che è bruttissimo da vedere Ed altruende quando cerchi la nederite succede questo Dunque attualmente non vedo grande profitto Da questa esplosione gigantesca con tutta la TNT che avevamo a disposizione Tutta Faccio dei piccoli pit stop per recuperare del quarzo Anche perché nonostante la TNT sia finita E ci abbia permesso di trovare 4 pezzettini di ancient debris Vi ricordo che dobbiamo trovarne 6 Ora sono partito un pochino pessimista Perché ho detto ce l'ha permesso di trovare 4 Ma ancora non abbiamo finito Quindi controlliamo tutto quanto il tunnel Scaviamo per bene E guardiamo anche nei dintorni Perché veramente basta poco E l'hanced debris salta fuori eh ve lo dico Occhi ben aperti Non confondiamo il quarzo per l'hanced debris ovviamente Beh insomma ero partito pessimista Ma mi sembra di aver avuto ragione purtroppo Troppo livello 15 ci siamo sempre E abbiamo un po' di utilizzi no 992 Penso che possiamo trovarla dai dell'hanced debris così O perlomeno ci spero altrimenti abbiamo un problema Dai non fregarmi forza Ancient debris Ancient debris dove sei 47 giorni dopo Salterà fuori ragazzi salterà fuori Non vi preoccupate La troveremo La troveremo Non ci può scappare Ve lo garantisco Non sappiamo dove sia Ma la troveremo E se cade la lava Problemi dello step del futuro Che deve recuperare tutto Follia Medell'espio totale Sul serio non c'è neanche un blocco di acced debris? Ma che cosa ho fatto di male stavolta? Oh mio dio What? Oh oh Sì Sì E andiamo Sì Sì Oddio mio Oh mio dio Così a sensazione raga Ok a sensazione è un parolone Sono anche andato qui In questo tunnel ci ho trovati due Non ci posso credere l'abbiamo chiusa Con 152 sul piccone Ero lì che stavo attento a controllare quanto stessi consumando E sono saltati fuori Sono saltati fuori così Ormai porta fortuna per l'inventario praticamente Possiamo abbandonare il nether Ciao Recuperiamo magari i blocchi di quarzo Che vengono con noi Paper E la nether rack La strada per tornare indietro adesso Dovrebbe essere piuttosto semplice Perché ho scavato veramente poco E infatti ci siamo già ricollegati Io lo so che ci siamo persi una cassa qua dentro sicuramente Ho letto i vostri commenti Altri tesori Altri blocchi d'oro E che cosa Che cosa devo fare? Io non so neanche dove si entra Se mi arriva il brutto addosso Ho paura Cioè 118 utilizzi Stiamo attenti Questo ne ha 64 Io non ho idea di dove si entra Cioè Possibile che questa torre non sia una torre Ok Boni Calmi Hello Alve Nessuno Quanti utilizzi? 103 Calmi Se mi cade un brutto addosso Impazzito Ok quindi sei arrivato da qua Oh mio dio Oddio Sì Sì Questa l'ho già aperta? Eh no Cioè non lo so in realtà Qua è tutto aperto Tutto spalancato Eeeh Ragazzi L'unico modo che abbiamo per scoprirlo è aprirla Mi sembra di non averla aperta Ti prego fa che ci sia qualcosa di estremamente prezioso Questo è god Anzi è good La mia armatura è rotta La butto Ne prendo una nuova Tra l'altro se non lo prendo Ma lo lascio là dentro La prossima volta ne dobbiamo trovare 7 invece di 8 Quindi Lo lascio là dentro Ma vi rendete conto che questa cosa però Non è ecosostenibile Cioè dobbiamo uccidere troppi creeper Cioè li portiamo all'estinzione E non basta Non basta Mi serve una farm di esperienza Guardate il mio piccone Com'è messo Mitico ragazzi Abbiamo trovato anche il settimo pezzettino di Ancient Debris Ma l'abbiamo lasciato là Perché altrimenti poi Ci accollavamo una roba più grande di noi E adesso si deve tornare a casa Perché ci sta aspettando una porta 3x3 automatica Wow In bocca al lup In bocca al lup Oh Boom Distrutto il mondo Step Distrugge tutto Dunque prima di andare a casa Pizzoppino tattico dei nostri amici Vediamo se hai cambiato le tue intenzioni Sei completamente inutile Te Vuoi crescere o cosa? L'alambicco ovviamente non ce l'abbiamo Quindi posso andarmene Guardate che bello Inizia ad essere un gruzzoletto interessante 18 Ancient Debris Piano piano Sono sempre di più Adesso svuotiamo un secondo l'inventario Ma nel vero senso della parola Non voglio vedere più niente Più le schifezze perlomeno Ma in bocca abbiamo scoperto nuovamente le carote D'oro Direi di sfruttarle il più possibile Che sono devastanti Direi che possiamo considerare l'inventario Abbastanza svuotato Se siete d'accordo Levo anche i bottoni Mitico Che ci fa della carne qua? Ora la cosa fighissima è che Con Metal Detector in mano Noi apriremo tutte le ceste Dove prima ho messo tutte le cose a cuocere E da 112 utilizzi che abbiamo a disposizione Se prendiamo tutto Vediamo un po' che cosa ci dà 210 Rendono molto di più i metalli ovviamente Adesso vi faccio vedere la lista degli oggetti Che ci servono per fare la porta Dovrei controllare tutte le ceste Per capire se possiamo permettercelo Ma credo di sì Il problema infatti non è la varietà delle cose che ci servono E come dovremo assemblarle Seguirò un tutorial Dunque avremo bisogno di 11 sticky piston 12 pistoni di conseguenza Perché ci servirà un pistone normale Una redstone lamp Non chiedetemi per quale motivo Io sto replicando Ovviamente Un tutorial perché Di redstone non ci capisco niente Trovate il link in descrizione 20 observer Che si fanno con la cobblestone Sono abbastanza sicuro che avremo bisogno Anche del ferro La redstone lamp la facciamo al volo Anche i pistoni non sono un problema Abbiamo detto che ne dobbiamo fare 12 in totale Dobbiamo farne 12 Perché 11 Diventeranno degli sticky piston Che ci serviranno Per far sì che la porta automatica Poi torni al suo posto Gli observer ne serviranno 20 Quindi mi serve Un po' più di No Basta Questa cobblestone Et voilà Abbiamo anche gli observer Che si fanno in questo modo qui Ne servono 20 Questo qui non ci serve Incredibilmente serviranno Due note block Ma quello della farm Lo lasciamo dov'è Servono dei repeater Quindi serviranno sicuramente Sei torce Dei pezzi di pietra Già cucinata E della redstone Messa sopra Esattamente così Tre redstone repeater Ecco teoricamente Quello che abbiamo nell'inventare In questo momento È tutto quello di cui abbiamo bisogno In più I blocchi che vogliamo Che coprano la porta E direi che sono fighissimi Quelli di blackstone Sono tanta roba Di ossidiana raga Però è fighissima Se ci pensate Una porta di ossidiana È clamorosa Che non si può aprire In nessun modo Ci sto Ci sto 9 blocchi di ossidiana raga Me ne pento sicuramente Teoricamente sono 12 I blocchi di cui avremo bisogno Fammi recuperare Anche un po' di questi qua Che probabilmente ci serviranno Poi Per i vari contorni Delle blackstone wall Perché no Riposiamoci velocemente È un'occasione più unica Che rara eh Io che costruisco In redstone Soprattutto nella vanilla Wow Il piano è ovviamente Quello di realizzarla Qua In questo punto Mi servirà un po' di terra Che non ho preso Faccio solo un piccolo ingresso Qua dentro Ma giusto per recuperare Un attimo E me ne vado subito Come se non fosse successo niente Vedete i problemi? Io no È che la porta Vedete Cioè non è ancora precisa Mancano dei blocchi So che in molti Non approvano Perché pensano Sia un grande spreco Di iron Secondo me Invece Una guardia del corpo Può sempre Essere storta Immaginatevi Se si potesse creare In quel modo Dobbiamo trovare Un nome per lui Siete pregati Di lasciarlo nei commenti Dai devi farmi la guardia Un secondo eh Che dobbiamo costruire qua Se mi arriva un creeper dietro È un casino Tra l'altro sto facendo Del vero terraforming In qui Potrei lasciare bruttissimo Sotto eh Invece no Due minuti prima L'abbiamo fatto di là Nel dubbio Mamma mia Che fastidio Quando rimane il tronchetto Dentro Che non riesce a raggiungere Guardalo dov'è Guarda Tre ce ne sono E sta roba qua Non è cambiata Nel tempo Tre un corno Ma quanto ha ramificato Maddanna Peggio del fungo Di The Last of Us Parassita La spora Il fungo Sì quel che è È giusto perché Dobbiamo dimostrare Allo step del passato Che abbiamo fatto upgrade Guardate qua Abbiamo finito Praticamente Molto bene Ora Iniziando a lavorare A questo punto Come se fosse nuovo Dobbiamo creare La nostra porta Tre per tre Ovviamente io voglio Arrivare E arrivi Insomma c'è già la porta Quindi qui Qua io voglio che ci sia La mia porta Quindi se ti sposti Uno Due Tre Eccoci Un po' troppo potente La mia pala Io qua voglio che ci sia La mia porta in ossidiana Io non so se riusciamo a fare Quello che voglio fare Ma se riusciamo a farlo È tutto estremamente figo Lo scopriamo insieme Cioè ovviamente Perché vi ripeto Non so se si può fare Dopo aver posizionato La nostra porta Fatemi un attimo Lo spazio di Sistemare il resto Aprite un attimo Intorno che Ci sarà da lavorare Probabilmente Considerando che Scusa Scusa Io ti ho messo qui Per fare la guardia Non per rompere Eh Meno male che non può attaccarmi Perché l'ho creato io Sennò saremmo morti Probabilmente Sicuramente dobbiamo mettere Due sticky piston Così Un altro dobbiamo mettere qua Due li dobbiamo mettere qui E due dobbiamo mettere la parte opposta Sembra facile Quasi dimenticavo Che ne servono tre anche sopra Lasciate perdere Sta roba che sto facendo È una mia impalcatura Perché voglio aver modo Di collegarmi Un po' dappertutto Dunque io avrei potuto Fare una prova In realtà Prima di iniziare Questo scempio Perché Se in teoria Non mi si sposta L'ossidiana È un bordello Cioè What the fuck Non No Vi garantisco raga Che sono più dispiaciuto di voi In realtà Perché Ci vuole un secondo A togliere l'ossidiana E Ovviamente Cioè Non si può spostare l'ossidiana Sennò sarebbe stato Troppo bello Però vedete Cioè Efficienza 5 Me lo fa rimuovere in un secondo Non è che mi girano le scatole Per questo Sarebbe stato molto figo Farlo in ossidiana Ma va bene Non importa Lo facciamo di blackstone L'importante è fare l'ingresso 3x3 Automatico Che non abbiamo mai avuto In nessuna serie Magari l'ossidiana La usiamo intorno Per decorare Non vi preoccupate Cioè come vedete In un 4x48 Abbiamo già tolto l'ossidiana Quindi Questo non era il problema Effettivo Se non avessimo avuto Un'efficienza 5 Sarebbe stato un problema effettivo Si era fatta apposta È notte Ce ne andiamo a dormire Ho visto che Dei giocatori di minecraft Hanno inventato Delle torrette difensive Con tipo 30 snow golem Nello stesso punto Le fiamme del nether Intorno E la possibilità Di fargli sparare Tipo un mitragliatore Gatling Infuocato Lanciafiamme Addosso alle orde di zombie Che è figo Molto simpatico Vi ricordo che abbiamo Due spawner di ragni Giù da raccogliere Da sistemare per bene Tempo al tempo Non ho feather falling A proposito Spero che il tipo Si sia fatto passare La voglia di protection Madonna Questo che deve Star qua Da aspettarmi Però che fastidio Madonna mia Ciao ragazzi Come va Lui non è cresciuto Minimamente Lui scambia Queste altre cose Lui fa ancora protection Ma se te lo tolgo Che succede Che succede Vi lavo tutto Vi lavo tutto Me lo metto di qua Protection 2 Ok Tanto è cambiato Qua Che si dice Non si fa niente Per favore Mi raccomando Noi ce l'abbiamo già Ovviamente Sul piccone Però adesso Come vedete Dobbiamo tenerlo Con cura Perché Cioè Si può distruggere Da un momento All'altro Un altro Fortuna 3 E' inutile E' inutile Si me ne rendo conto Ragazzi Me ne rendo conto Project protection 4 Figo Ma ti garantisco Che puoi fare di meglio Amico mio Molto meglio Dai Blast protection Che cosa mi tocca Vedere Vai di qua da dietro Vai Eh no Lo prende sempre lui Comunque E' il knockback Adesso Loyalty tree Che non è neanche malvagio Ma vogliamo molto di più Chi lo prende Lui Silk touch Ecco Questo è già interessante Però mi sembra un po' sprecato Cioè Ci deve dare il mending Più che altro il mending Sugli oggetti giusti Tipo poi L'elitra L'arco Che non può avere Il mending Probabilmente Lure 1 Non ci capiterà mai più Col mending Raga Era stata una coincidenza Troppo fortuita Troppo Venga qua per favore Respiration 3 Bello però Mi piace un sacco Mi devi prendere di nuovo Il mending Non so come spiegartelo Cioè Ci saranno almeno 30.000 persone Che lasceranno Mi piace a questo video Se mi trovi il mending Ah ci sei tu Eh no Eh no Ce l'avevamo Eravamo ad un passo Li mortacci Vosso E venite a studiare Sti dannatissimi libri Sì Sì Fermo I paper I paper Please I paper Please I paper Please I paper I paper Please Non importa Sì Con la pala Con la pala Con la pala Vabbè lo stesso Vai Oh mio Oh mio dio Sembra fatta apposta Sembra fatta apposta Non so se avete visto Quanti fogli abbiamo Nell'inventario E quanti ne richiede Il tizio Permesso E Ti piacerebbe tantissimo Rovinarmi la vita Sì 24 24 Loccato Per sempre Con il mending Ci servono 18 smeraldi E un libro Probabilmente ne abbiamo 17 Conoscendomi Ma non ci importa Raga c'è il mending Giusto 30.000 Appena l'ho detto Clamoroso Clamoroso Magniati se Sugar game No no che te magni Lasciami a me Perché porca miseria Stiamo alla buccia Non abbiamo più niente Questo zombie Mi perseguiterà Comunque ci servirà Fidatevi Perché in teoria Dopo aver fatto un test Su quello lì Che si è ammalato Che aveva il mending Ma lo ha perso Capiremo se E cosa fare Con tutti gli altri Che poi porteremo Nella voragine Quindi tornando a noi Abbiamo detto Che metteremo Della blackstone Che è esattamente Questa qua Giusto Vediamo la differenza Mi piace molto Considerando che si chiuderà Tra l'altro A spirale Ops ho rimesso lo stesso E' molto bello Anche questo Eh si Userò lui Userò il polished Rimettiamo come vi ho detto Tutto il frame Intorno della porta 3 Questo sopra Dunque Come si prosegue qua? Se ho capito bene La porta Si aprirà Da questo blocco qua Quindi teoricamente Potrei già Piazzarci la torcia Che qui adesso Ho droppato tutto il mio cibo Ma lo riprendiamo La disposizione E' questa Quindi il blocco Che farà aprire Sarà lì sotto Quindi ci metteremo Una scala Probabilmente Per arrivare Quassù in cima In teoria C'è un pistone Che è messo così E poi successivamente Un observer Che guarda Verso il centro In questo modo Tolgo i blocchi Solo per una questione Di spazio Poi non so Dove e come Potremmo rimetterli Ripeto Non è una mia creazione Sto seguendo Un tutorial A quanto pare Qua ci va un blocco Normale E poi dobbiamo andare Dietro Esattamente Dietro al pistone E dobbiamo mettere L'observer Che ci guarda In questo modo Così eh Dove vi piazzate Tac Dopo aver messo Questo observer Semplicemente Guardate qua Ne piazzate un altro Verso l'esterno Ci salite sopra E guardando verso il basso Ne spiattellate Un altro saltando Così Per concludere Con la ciliegina Sulla torta Che è la redstone E alla sinistra Di questo blocco Dove avete messo la redstone Mettete due observer Che guardano verso il centro Mi perdo le lettere Tutto regolare A sto punto Che lui usa un altro Sticky piston Io mi chiedo Dove caspita L'ha preso Che non ce ne ho più Eccolo qua Sono un pirla Sono un pirla Che l'ho appoggiato sopra io Sono un coglione Tra l'altro è notte Diventa notte Piuttosto in fretta Mi sembra Anche solo per il rumore Di sottofondo Che se ne va Che bello Comunque non so Se vi conviene Guardare il mio tutorial Ragazzi Ho già fatto una confusione Pazzesca E c'è una mucca Che sta cercando Di attivare il portale Dai via Dunque l'altro sticky piston Che finalmente abbiamo ritrovato Va messo in questo modo Poi direte Ma hai messo a posto Prima tu Hai fatto il terraforming Adesso stai spiattellando Tutto all'aria E Che ci devo fare Quindi davanti allo sticky piston Che abbiamo messo così Mi rimettiamo uno server Che guarda di qua Questa è complicata Se me la ricordo tutta Ed è bastante Davanti a questo observer Voi mettete La redstone lamp Un observer interno così Un note block Un altro observer No Un altro observer No Ok Un altro observer così Ok Ce l'ho fatta Così deve essere messo Così Credo che sia cambiata la texture Perché nell'observer Che viene messo sopra Al note block Questa freccia è qua Ma non riesco a farla andare lì Comunque redstone qua sopra E poi collegato all'interno Un altro observer Che guarda in qua A sto punto Dalla parte opposta Davanti all'observer Un altro observer Come se non bastasse Indovinate un po' Ne avevamo 20 Un altro Faccia in giù Che non è così Mucca levati Faccia in giù Dovremmo fare Un piccolo spazietto qua Molto bene Così dovrebbe essere Faccia in giù Come vedete La freccia Dalla parte opposta invece Esattamente qua Un altro che guarda Verso l'esterno E un altro che guarda Verso l'interno Cosa fanno questi observer Beh Observano Ovviamente Come voi In questo momento E poi permetteranno Alla porta di chiudersi Con una spirale Perfetta Perfetta Cioè Non so se sarà fattivo Lo scopriremo È il momento di costruire Il frame Della nostra porta Considerando che Non ci ha permesso Di farlo Con la porta stessa Direi di sfruttare L'ossidiana Considerando che comunque Rimarrà immobile Questo pezzo qua Io spero eh Credo Comunque l'abbiamo portata Raga È fighissima L'ossidiana È un materiale Incredibile La mettiamo Torniamo nel lato Dove abbiamo piazzato La nostra leva Intanto qui Continuiamo a distruggere Il lavoro fatto Dello step Poco tempo fa Dobbiamo spiattellare Sopra di questo Verso l'esterno Un observer E sopra l'observer Un altro observer Che guarda verso l'alto Sopra l'observer Il note block Indovinate cosa va Sopra il note block Ma ovviamente Un altro observer Con della redstone Che dovrebbe attivare Questo pistone In teoria Lui dice così A quanto pare Avremo bisogno Anche di una slab Che non era menzionata Nell'inventario iniziale Ma non importa Perché sopra A questa redstone Dobbiamo mettere Un altro observer Voi vi chiederete Come Così In qualche modo Sopra l'observer Un blocco Accanto all'observer Lo slab Con sopra la redstone E davanti Un altro blocco Non fa una piega Ed è diventata Di nuovo notte Step Perché non facevi Le costruzioni In passato In redstone Adesso avete la risposta Verrà fighissimo Ragazzi Verrà fighissimo L'episodio della vanilla Di questo sabato È clamoroso Probabilmente Non saranno usciti Due video ieri Perché è stato Un macello Da registrare Ma Considerando che è uscito Son of the forest Io sono sicuro Che vi sia piaciuto Ci posso mettere La mano sul fuoco E non vedo l'ora Di fare il secondo episodio Insieme ragazzi Che figata Mi sa che arriva Il momento complicato Perché dobbiamo mettere Un blocco qua Della redstone E un repeater Che va in là Davanti con un altro blocco Quindi un ripetitore In questo punto E poi metto Un blocco qua E teoricamente Un blocco qua Con la redstone Qua sopra Vedete l'impalcatura serve Purtroppo non abbiamo Ancora trovato i bambù Quindi Non abbiamo Lo scaffold Lo scaffold Se ho capito bene Qua combineremo danni Devo mettere Uno di questi observer Che guarda Verso il basso E per farlo Penso di dover fare Così No Lo devo fare Ovviamente dal basso Quindi in questo modo È probabile Che adesso Si attivi un attimo Un meccanismo Giusto Aspettate Che questo va rimosso Eccoci Lo sapevo Si è rimesso a posto però Ah io finché funziona Non mi faccio domande Mi faccio le domande Se non funziona Quindi nell'angolino Là ci serve La redstone E da questo punto In giù Un altro observer Che guarda Verso il basso In questo modo Con un repeater Spiattellato qua Che guarda Verso fuori E un blocco sotto A quanto dice Gino e Pulcino La porta Dovrebbe essere pronta Ora io Sono veramente curioso Sono così ambizioso Di ciò che abbiamo fatto Del tutorial Che abbiamo seguito Che sto distruggendo La mia impalcatura Prima ancora di vedere Se i lavori sono finiti Che altro senza fare il contorno Bene Sono un po' nervosetto Ma Allora io non lo so Ma magari L'ossidiana Non permette Il passaggio Della redstone Giusto per curiosità Pura curiosità Voglio provare a rimuovere Solamente questo blocchettino Solamente questo Rimpiazzarlo con questo Ok E riprovare adesso No Non è l'ossidiana Allora è il problema Dunque Adesso ragazzi È difficile qua Io non Non saprei proprio Proprio non saprei Che cos'è che sicuramente Non funziona Uno di questi blocchi qua Che non viene alimentato Da niente Probabilmente Perché? Probabilmente hanno cambiato qualcosa Nella funzione degli observer Perché Ovviamente io Cioè L'ho eseguito Pari 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 Vediamo se rimettendoli al loro posto Ragazzi funziona Ma dai Ma che vuol dire? Ah Quindi devo metterlo lì Va bene Prego funziona Ti prego No 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 Faremo la versione Upgradata Di Stepney Mi sa Non fa una piega Io ho detto che la porta Dove essere Automatica Che è ora Una necessità che sia veramente Anche a spirale Non l'ha mai detto nessuno È una mania che non mi appartiene In questo momento Vi fidate di me o no? C'è un che di mistico Me ne rendo conto Ma Funziona Sembra Pac-Man Tra l'altro Ovviamente se questo fosse stato il compito Di un professore Alle superiori Non prendereste 10 Ecco Prendereste probabilmente Un 8.8 Per la simpatia Solo perché sembra Pac-Man Probabilmente Da chiuso Dunque Certo Beh Mi sembrano Ehi Ma che fai? Ma come osi? Dai Dai voglio vedere se riesci ad entrare Trovaci almeno Scappi perché non vuoi morire Ok Ti posso provare a dare questo Se lo pre E va bene Dai vieni con me So che sarete molto contenti Di questa cosa Lo so Dobbiamo dargli un nome eh Tra l'altro ci assomigliamo tantissimo In questo momento Se avessi un elmetto d'oro Dai Forza Solo perché la porta funziona A metà E voglio darti una chance Di sopravvivere In qualche modo Vieni Vieni qua Ehi Vieni qua Devi entra Ma sei impazzito Ma cosa stai facendo Vieni qui Muoviti Vieni qua Non so se può salire anche lui Oddio Può salire Mi sa di no Ehi Vieni Vieni qui Buona misura Qua dentro Vieni Puoi venire qua un secondo Non può morire con due colpi di Di dirt Vi torna Ok Ci penso io ragazzi Non mi preoccupate Ce lo facciamo entrare Ce lo facciamo entrare ragazzi Ve lo prometto Costo di farmi massacrare Di botte Da un anerottolo Zombie Però ce lo facciamo entrare Ah Ha funzionato The Clatcher Stefani Oh È davanti a me È davanti a me ragazzi Allora Per lavoro del cielo Si fermi un secondo È pazzo lei Lei è completamente matto È matto Da legare Ok Qui Qui È psicopatico Guardalo Io non so se lo possiamo fare Ma devo capirlo In qualche Ok ho un'idea Manca un pro player Speed builder Che deve finire il gioco in tempo Ok Calmo Calmo amico Calmo Fai male Fai male Un po' troppo manesco Per i miei gusti Aia Allora però Che senso ha metterti qua Beh certo perché devi sostituire l'altro Ok Tu Ale giustamente Ti starai chiedendo Ma che caspita stai facendo È la terza ora di registrazione Del sedicesimo episodio della vanilla E stai veramente costruendo una casa Per questo essere Invece che per te stesso Assort off Che è ancora più grave Dopo il grande fail della porta Che non si chiude completamente Né tantomeno si apre Oddio aprile aprile si apre tutta Perché se decido di lasciarla aperta Posso farlo Però insomma Sarebbe figo che si chiudesse Ecco Voi penserete Ma cosa sta facendo Ma è impazzito Tranquilli ragazzi Io lo faccio per lui Gli voglio bene Visto che per l'altro Ve la siate presa un botto Fidatevi Che lui ci terrà accompagnare a lungo Che altro perché lo renderemo immortale Tra due secondi Quindi Ci sta Non si fa così Ottimo Come Come si fa Ah Ok ok È da un botto raga Che non lo faccio Mi ero completamente dimenticato Completamente andata la mentality Cioè qua Che cosa stiamo facendo Non lo si sa Non lo si sa Fastidiosissimo eh Perché è praticamente Nel mezzo Ma Ne varrà la pena Oddio Se cado là dentro con lui Sono No Per l'amor del cielo È libero Ah No Lo no Senti dopo tutto quello che ho fatto Non ti azzardare A pensare solo di morire Di cercare di ucciderti Perché è un disastro Altrimenti eh Per l'amor del cielo Vieni Oddio 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 Ma come fa a essere così furbo Da non cadere Ok Calmo calmo Ste calmo Puoi resistere Non può clacciarla Non può clacciarla Ok Hai visto Che cosa succede A bambini cattivi Questo Sacchettino di pulci Completamente inutile Ogni tanto ti porterò del cibo Se te lo meriti Io direi che per oggi Abbiamo fatto Un ottimo lavoro E voi starete dicendo Ma che cazzo sto dicendo Sei impazzito Cioè la porta non funziona La porta funziona Per quanto mi riguarda Cioè Voi vedete una porta Che non funziona Io vedo una porta Che funziona È chiusa È aperta Cioè ci passo Sì Oddio ti prego Dimmi sì Aaaaa Perché Penso che la cosa migliore Ovviamente sia Rimetterlo Tutto come era Quindi Così Vediamo se funziona Ti prego Ok Quindi c'è il solito Problema iniziale Però adesso Se faccio così Aaaaa Mio dio A quanto pare Siamo riusciti a fixarla Con l'effetto Pacman E niente Il risultato È questo qua Ovviamente Ci dobbiamo accontentare Quindi oggi abbiamo fatto Una porta Ma manca ancora Il portone A quanto pare E mancano ancora Sei livelli Ok E devo coprire Questa roba Ragazzi Lo sono tentatissimo Da spaccare tutto E rifare da capo Ve lo giuro Aaaaa Aaaaa Col portone principale Attualmente mi arrendo È notte Arriviamo a livello 30 Va Va dietro l'albero E ragazzi Direi che Abbiamo completato Un'altra grande Missione Mi sembra Qua Cioè abbiamo Un pillager Con lo standard Rapito Completamente Tra l'altro È completamente Scemo Perché non riesce Più a colpirmi Abbiamo recuperato Anche le leie Ci sono delle tartarughe Qua What Deve essere un episodio Potenzialmente Fail Fail Perché la porta Funziona Comunque Che bello Beh adesso lui Avendolo rapito In teoria Dovrebbe Rispaunare Nella base Aspetta Aspetta Permesso Salve Salve Buonasera Buonasera Allora Un attimo solo Che Metto due torce Al volo Ciao Arrivederci Arrivederci In esilio Raga Rapito Ma dai Ma cosa Che sta sparando Al contrario Comunque la mission No Cosa fai No Perché è andato lì Perché Vabbè Vabbè E almeno la lei Sta in base Ne siamo sicuri E non se ne va più Incredibile Che combinazione Bislacca Mancano tre livelli E' stata dura Ma abbiamo portato a casa Anche la to do list Di quest'oggi Incredibile Si lo so Il libro commanding Non lo abbiamo preso Lo abbiamo loccato Però Che è come averlo preso Perché non avendolo loccato Il tipo ce lo darà Danger Pierre Grazie mille Grazie mille Io mi ricordo di te Che mi hai detto Del tasto Che mi riporta in mano Gli oggetti Dall'inventario Sì Prima stavo quasi per spaccare Il piccone metal detector Mi è rimasto con 22 di durabilità Poi l'ho tolto all'inventario Perché era troppo pericoloso Però Appena sparisce il puntino rosso Me ne accorgo subito Non vorrei dir Fandonie Ma con tutto questo In teoria Possiamo prendere addirittura Il libro con il manding Il manding c'è ancora 18 smeraldi È un libro Perfetto Così 18 smeraldi Così Il libro con il manding Pensavate che non avessi Completato la to do list E invece Eccola qua Smentiti Subito Praticamente Insieme ai mates Che stanno torfendo qua Prigionieri Nella mia vanilla Vi saluto ragazzi Grazie mille di essere arrivati Alla fine Spero di avervi fatto iniziare Il weekend Alla grande E spero di aver inserito Tutte le cinematiche Nella replay mode Tra l'altro Se qualcuno la sapesse usare Contattatemi Perché Sono un attimo nel panico Io ragazzi Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Decisamente importante Ed XL Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Perché ne vedrete Delle belle Ci vediamo nel prossimo Nel prossimo appuntamento Grazie per tutto Buone Ma quanto cavolo di roba È successo Nell'episodio di oggi Ragazzi Wow Wow